Le riunioni di primavera non sono state lievi quest'anno per il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. A Washington i leader economici hanno dovuto constatare che la crescita globale è troppo contenuta e il ritmo resta deludente. Per questo gli organismi caldeggiano nuove politiche fiscali da parte dei governi per rilanciare l'impiego e la fiducia dei mercati. In Commissione abbiamo fatto una valutazione e la nostra opinione è che tra quest'anno e il prossimo ci sono probabilità di vedere un incremento del PIL nell'ordine dello 0,2-0,3% con una crescita in Europa del 2%. Non è un dato trascurabile. Le riunioni di primavera sono iniziate in piena bufera Panama Papers ma poi a tenere banco sono state le inquietudini che minacciano la crescita economica globale, tra cui l'immigrazione, le tensioni geopolitiche e il rischio di Brexit del Regno Unito. Il cambiamento climatico aumenterà i flussi di rifugiati o almeno di migranti. Questa è una realtà che ancora non tutti sono in grado di capire. Questa conferenza permette di aprire gli occhi. Infatti la cooperazione tra le banche dei vari paesi e le Nazioni Unite si è decisamente intensificata. La questione umanitaria dei rifugiati legata alla crisi siriana non è l'unica preoccupazione presente a queste riunioni di primavera, sottolinea il nostro corrispondente. Si discute anche sulla ricostruzione della Siria che secondo la Banca Mondiale potrebbe costare circa 150 miliardi di euro ma solo se la guerra civile viene fermata subito. Stefan Grobe, Euronews, Washington.